Un cadavere! Un cadavere in decomposizione! Il seguimento senza senso continua! Sì, non ti preoccupare. Ci vedremo molto presto Roland. E poi? Mi ammazzerai? E dopo cosa farai? Porrò fine la cazzo di Blackwatch e poi... Ucciderò Mercer. Capisco, anche se dovessi uccidere migliaia di persone per riuscirci, giusto? Che eroe. Ho mai detto di essere un eroe, stronzo? No, non funzionerà. Devo trovare questo Roland in un altro modo. Non mi stupisce che tu gli piaccia tanto. Sei testardo come lui. Fantastico. Perdo questo Roland e ci guadagno un mostro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È arrivato il tuo momento. Chi ti ha parlato di me? La Galloway? Uccidermi non farà alcuna differenza. No, ma sarà un vero spasso. Forse hai solo bisogno di un po' di tempo per pensarci. Non vedo l'ora di vestarti a morte con gli arti insanguinati di questo bastardo. No, non vedo l'ora di vestarti. Ti senti bene? Ti senti bene? Ti senti bene? Questo tizio ha un terremoto ambulante. No, non vedo l'ora di vestarti. 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 bene. Questo tizio è un terremoto ambulante. Questo è un terremoto ambulante. Forza, barilotto. Vedi di certo. Dovrò fare attenzione. Potrebbero ferire qualcuno. Red ground, qui vai per 4-2. Abbiamo trovato un ufficiale ferito qui dentro. Conferma che c'è uno stile in zona. Passo. Stanno parlando di Roland. È in uno dei carri armati. Ci penso io. Red ground, qui vai per 4-2. Un ufficiale ferito che abbiamo trovato è al sicuro in uno dei carri armati. Passo. Un ufficiale ferito che abbiamo trovato. Lo so che sei qui, stronzo. Credi che mi stia nascondendo? Sto solo aspettando che tu ti stanchi. Il bersaglio ha lasciato la tana. Fuoco! E mandami una cartolina. Oh mio Dio! Eller sta sfondando i carri armati a mani nude! Red ground, qui Marco 3-3. Siamo nella merda. Il bersaglio ci sta massacrando. Richiediamo il permesso di raggrupparci. Passo. Negativo 3-3. Il soldato in petto è di massima priorità. Passo. Richiediamo tutto. Per Galilei. Lo so. Ci vediamo. Oh, no. Se ti unissi a me e a Mercer, ci perderemmo in questi stupidi batti vecchi. Assaggia il mio nuovo giocattolo. Non sarà affatto facile, Eller. Non male, non ti riporterà la tua famiglia. Non hai neanche sentito il nostro piano. Saprò tutto quello che sapete molto presto. Non mi ha fatto niente, sai? Tutto questo per due persone morte? Un mostro come te non può capire. Non ti piacciono le chiacchiere, eh? Che pezzo di merda. Vediamo un po' questi piedi. Nessun problema, Lauren. Nessuno, signor Mercer. Signore, le mie rotte di trasporto aggirano la sicurezza della Blackwatch. Dunque, tutte le scorte di Whitelight stanno attualmente lasciando la zona verde? Sì. L'operazione potrà iniziare appena avremo l'ordine. Signore, tutti i miei. Signore, dietro di prima che sono state rinctate 50umi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.